E allora è bene essere chiari sul punto. Lo diciamo per il tramite della Presidente del Senato, al Presidente del Consiglio e a chi continua a sostenere che la posizione di Italia Viva sia una posizione legata a un qualche interesse di partecipazione alla cabina di regia. Noi non scambieremo il nostro sì alla proposta di governance in cambio di uno strapuntino o di un aggiungi un posto a tavola, detta in un altro modo. Non già al Presidente del Consiglio, che ne è consapevole, ma a chi ci segue, noi non stiamo minimamente chiedendo che nella cabina di regia ci sia anche un ministro di un colore politico più vicino al nostro. E lo dimostriamo in modo molto semplice, ricordando agli ignari passanti di quest'Aula, che il 22 luglio noi avevamo chiesto una e una sola cosa, stagliati del Senato e stagliati di YouTube, per chi non guarda lo stenografico. Avevamo chiesto di fronte ai 200 miliardi da spendere, cifra che non ricapiterà per anni, vorrei dire per decenni purtroppo. O il Parlamento fa un dibattito vero sfidando le opposizioni, avevamo detto, oppure perdiamo la dignità delle istituzioni. Grazie. Grazie. Grazie.